Celebriamo nel segno dell'arte, della storia, della cultura il giubileo dei 50 anni dalla chiusura del concilio Vaticano II. Quindi il libro come promozione culturale, etica, civile che attinge all'anima della terra sacra nolana e ai valori da diffondere quali la solidarietà, la fratellanza e la democrazia. Una settimana intensa di arte, storia, cultura, spettacoli, presentazioni di libri, momenti di riflessione che a partire da questa sera per l'intera settimana si concluderà sabato 18 giugno con la consegna dei campanili d'argento ai vincitori della ventunesima edizione del premio Cimitile 2016.